E' partito il video, poi io faccio vedere come chiudi il salto mortale in avanti, piccolo Asia Eh, se lo vedi dall'avanti non lo vedi, vedi dall'avanti Eh no, beh, vediamo come arriva in piedi Quasi, peccato Oh, guarda che mi fanno giù, guarda che la sua donazione Oh, guarda che mi fanno giù, guarda che mi fanno giù Ehi, vai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.